Nel trentennale delle stragi di Capace e Via D'Amelio, il Teatro Massimo di Palermo presenta l'opera inchiesta del giornalista e scrittore Geri Palazzotto sui misteri ancora irrisolti delle stragi Falcone e Borsellino. Con le musiche di Marco Betta, Fabio Lannino e Diego Spitaleri, la narrazione di Gigi Borruso, le coreografie di Alessandro Cascioli e Iurico Nishiara, gli artworks di Francesco De Grandi, Cenere usa grandi linguaggi per affrontare vecchie ferite collettive. Cenere è il capitolo finale di una trilogia di teatro d'inchiesta prodotta al Teatro Massimo, scritta e diretta da Geri Palazzotto, iniziata cinque anni fa, con le parole rubate e portate avanti con i traditori. L'opera, che sarà in scena al Teatro Massimo in Sala Grande oggi e domani, ricostruisce e analizza i passaggi fondamentali dei misteri delle stragi del 92, in cui morirono Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte, Vito Schifani, Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro, Agostino Catalano, Emanuele Aloi, Vincenzo Limuli, Walter Reddi Cosina e Claudio Traina. Sono passati trent'anni, spiega Palazzotto, e la Cenere è quel che resta, una sorta di nemesi dopo un'incredibile sequela di indagini, processi, vicissitudini giudiziarie, anomalie, colpe maespiate e parole non dette del più clamoroso despistaggio dell'Italia repubblicana.